Digitale, sostenibile, resiliente, così dovrà essere la nuova industria, seguendo l'evoluzione imposta dai recenti avvenimenti storici, pandemia, guerra e cambiamenti climatici, per garantire il futuro della stessa umanità. La trasformazione sistemica, già in atto, imposta dalla storia all'industria, coinvolgerà tutte le tecnologie possibili per creare nuove opportunità di ricchezza e benessere che tengano conto di una visione umanocentrica. E su queste tematiche che si sviluppa il convegno futuro 5.0 digitale, sostenibile, resiliente, organizzato dalla sezione Servizi Innovativi Confindustria Chieti Pescara e da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici nella sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara in Via Reale, con il partenariato dello sportello Europe Direct dell'Università d'Annunzio e della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Al Tg8 parla Lino Olivastri, consigliere nazionale di Confindustria Servizi Innovativi. L'industria del futuro sicuramente porterà giovamento alla qualità della vita dell'uomo. Questo lo possiamo affermare perché è in atto una transizione da quella che viene definita Industria 4.0 a quella che viene definita 5.0. Come gruppo di lavoro di Confindustria Servizi Innovativi Nazionale abbiamo iniziato circa un anno fa con un progetto denominato Futuro 5.0 e stiamo cambiando prospettiva all'utilizzo di una serie di tecnologie, praticamente tutte quelle già esistenti nell'ambito del 4.0, per essere orientate avendo l'uomo al centro. Cioè noi cambiamo paradigma dalla tecnologia al centro all'uomo al centro. Questo farà sì che nel volgere degli anni noi avremo un miglioramento della qualità della vita dell'uomo e quindi della società e non solo delle attività produttive. Come si attua questo cambiamento nello specifico? Cioè cosa è che si dovrà fare per arrivare ad una industria umanocentrica? Come ruolo di corpo intermedio, di Confindustria, come sindacato delle aziende noi auspichiamo un orientamento delle politiche di sostegno verso quelle che sono le competenze. Cioè le aziende hanno bisogno di competenze, l'uomo ha bisogno di essere competente e qui investe tutti i settori della società. Vengono investiti il pubblico, la sanità per esempio, la pubblica amministrazione, ma anche il privato. Tutto ciò avverrà attraverso l'utilizzo di tecnologie, per dire intelligenza artificiale, il gemello virtuale o digital twin, cyber security. Cioè tutto ciò che riusciremo a tirar fuori dalle macchine o dai comportamenti stessi dell'uomo, auspichiamo il trasferimento, tra virgolette, all'uomo di quello che riusciamo a gestire attraverso le tecnologie abilitanti.